Sono molto contento di essere arrivato in questa realtà che avevo visto solo da avversario e sicuramente avere davanti un palleggiatore come Tibe è rassicurante sotto molti aspetti perché potrò imparare tanto e non vedo l'ora di iniziare e di apprendere il più possibile. Sono una persona tranquillissima, mi piace in particolare murare e velocizzare il gioco quando c'è da velocizzare però dipenderà un po' dalla squadra, dal sestetto B. Allora avevo iniziato a Scanso dove sono stato per tanti anni per poi prodare a Olimpia dove ho fatto l'ultimo anno di Serie C, Junior League e Under poi ho fatto una stagione in A2 come secondo di Garnica e l'anno scorso infine sono tornato a casa a Scanso in Serie B.